Questa edizione di Terzo Millennio mette al centro, oltre al dialogo interreligioso ed ecumenico, che ha una caratteristica di Terzo Millennio, i giovani e la loro capacità di cambiare le cose, di rivoltare lo status quo contro un conformismo, contro un'accettazione a volte passiva di tante difficoltà che opprimono e che fanno pagare un prezzo molto alto proprio la realtà giovanile. Ecco, mettiamo al centro quelle cinematografie, quei prodotti culturali, quei film che provengono da tutto il mondo, che fanno vedere come i giovani sono protagonisti del cambiamento. Lo sono stati in alcune epoche storiche, sembra quasi che non siano più capaci di cambiare le cose i giovani, in realtà lo sono ancora, ci sono fermenti culturali, a volte motivati proprio dalla fede, che dimostrano il contrario, i giovani sono capaci di cambiamento. Ci sono molti luoghi comuni anche sui giovani italiani, i giovani fannulloni, i giovani che stanno in casa con i genitori e non vogliono fare niente, i giovani che non hanno idea. Questo documentario che mostriamo questa sera, il fattore umano, spirito del lavoro, fa vedere di tanti adulti che si prendono cura dei giovani e insegnano loro a lavorare, danno l'opportunità per sviluppare delle idee. E giovani che prendono in mano il proprio futuro lavorativo e hanno la possibilità di realizzare i propri sogni, di creare occupazione e far crescere il paese, secondo le caratteristiche più pregnanti e più originali della creatività italiana del Made in Italy. È un documentario straordinario dove molti giovani sono protagonisti, ma di cui consigliamo la visione proprio ai giovani, per far vedere che le cose possono cambiare anche in un ambito complicato come quello del lavoro. Grazie!